Bravo, bravo deficiente, deficiente, San Paoli, San Paoli più tatuaggi che cervello, ragazzi premetto mi girano i coglioni, allora questo video dovevo uscire mezz'ora fa, questa ha deciso di morire, quindi se mi decide di morire sono due le alternative, o ci rinunci e fai un video domani quando l'Islanda con una possibile vittoria sulla Nigeria potrebbe clamorosamente buttare fuori, ma tanto clamorosamente non è perché questa Argentina, permettetemi se sbaglio, è una delle più scarse al mondiale vista nell'ultima settimana, condizioni secondo me, se non è uguali secondo me, per i giocatori che ha in campo l'Argentina che storicamente dai, veramente, siamo parlando di Argentina, Argentina a livello di gioco, a livello di gioco, cioè oggi ho visto la morte del calcio argentino, io purtroppo ho avuto la sfiga, ma oltre per la videocamera che dentro ci ho dovuto buttare una giornata anche per fare dei video e mi è rimasto tutto qui dentro e mi tocca rimandare tutto quanto, quindi questo video ve lo posso portare pure a mezzanotte, non mi interessa se se lo filano in pochi, ma davvero, io che scelgo una squadra su 32, perché ormai, lo dico, ho fatto un video, 30.000 persone hanno visto al mondiale, ti ferò loro, no, ti ferò per lui, l'avete cliccato per curiosità, ve lo dico, ti fa Argentina, ma non tanto per Dibale e Guain, che tanto poveri cristiani, guarda, vi invidio quei interisti, vi invidio, Icardi non ha sfigurato, perché se vai all'Argentina, tu non è che il tuo valore di mercato sia azza bassa, diventi una pipa clamorosa, questo allonnatore qua, c'ha 150 esterni, non ha voluto convocare Icardi per non far giocare neanche Iguain, perché vuole giocare col 4-4-2, Messi e Aguero, insieme li puoi vedere solo su FIFA, non esiste vedere una nazionale senza un giocatore più alto del metro e ottanta, lo puoi fare giusto su FIFA, qualsiasi squadra, pure la Costa Rica c'era un attaccante più alto di un metro e ottanta tre, mi avrebbe da guardare adesso in questo istante, ma non c'ho voglia, l'Iran, quello che giocava ieri a Zmun, sarà stato alto un metro e ottanta, non lo so, ma le squadre queste sono solo formate da esterni, Di Bala, Di Maria che non è fatto giocare, Acugna, ce n'ha un'infinità, Salvio, Pavon, Piccion, Aguero, Messi che gioca in un tridente da esterno destro, non gli far fare l'attaccante la seconda punta solo perché giochiamo nell'Argentina, Messi gioca in una squadra fatta da giocatori non troppo forti, ma lo devi mettere in una posizione di campo, se lo metti lì la squadra non gira, non c'era una punta che dava riferimento a quell'attacco, io non ho voluto fare nessun video contro l'Islanda perché mi son detto stai calmo, evita un video sfogo, guarda la partita con la Croazia che se lì l'Argentina se la sa giocare bene ti distrugge, niente, ho visto la formazione, vado in ricevitoria, schedina da 10 euro sul 2 della Croazia, soldi presi, dovevo metterci il no gol, mi pagavano di più perché l'Argentina solo in un'occasione è stata andata lì vicino col gol, poteva già fare qualcosa a Manzucic nel primo tempo, va bene, non hanno un portiere perché Caballero è il terzo portiere del City, se non il secondo, chi ci sta? Ederson, bravo, non lo so, il secondo o il terzo? E' una pippa, centrocampo, chi ci sta? Mascherano adattato, Biglia, Banega, chi ci può stare? Perez perché si è fatto male Lanzini, ora si è fatto male Lanzini si sarà sparato San Paolo che ci avrà le sue fisse e niente, neanche in una partita dove potevi quantomeno schierare una prima punta e dire oh ho fatto una partita in merda con l'Islanda, ho fatto una partita in merda dove ho anche subito e non è stata proprio del tutto una partita dove una squadra tentava l'arrembaggio e l'altra non faceva niente, si chiudeva e si arrocava, ma no, è stata una squadra che una volta che hai fatto quel gol del 1-0 è ripartito bene, poi te l'hanno sferato l'1-1 più volte e te l'hanno fatto e stavano per rifallo perché sono fragili dietro, davanti sono senza idee, poi almeno questa partita qua, ma dico, visto che non ci stai capendo niente San Paolo, metti da parte l'orgoglio, fai giocare una punta forte lì davanti e se ti sarà fatto male Lanzini, dovrebbe essere la tua occasione per dire ho fatto una cazzata, porto i cardi perché le squadre hanno le prime punte, tu non puoi vincere un mondiale con un giocatore, Nani e con gli esterni che li metti in attacco, l'unico attaccante si può dire è Agüero, ma Agüero nel City c'ha una squadra che gioca a tona, che gioca a pallone, una squadra che a centrocampo c'ha delle bestie, c'ha Guardiola come allenatore, se tu sei San Paolo e allenatore non puoi giocare con prime punte Messi e Agüero, non vai da nessuna parte, mi dispiace, Messi, tutti questa grande pressione, atmosfera, ora diranno che è colpa del rigore sbagliato con l'Islanda, ma davvero? La Croazia a centrocampo, sapete chi c'ha? Modric, Kovacic dalla panchina, uno del Real Madrid che ha tirato una sventola, le partite le vince a centrocampo, Brozovic, Peric dell'Inter, non grandi squadre, cosa? Dove vengono Acugna, Salvio e Perez, non scherziamo, Rakitic, alla fine il 3-0 è stata un'umiliazione, guarda da una parte meno male che questo video non è andato online, perché davvero sarebbe stata una censura, lo guardava qualche argentino, Non so se mi stringeva la mano, però evidentemente mi rode quasi quanto da italiano per loro, dovrei smetta, dovrei calmarmi un attimino, però prendi simpatia per una squadra, questa diventa la più scena del mondiale per aspettative, Perché in questo momento un tifoso marocchino guarda l'Argentina e dice, io in confronto il mio per quello che sono e rappresento il nome e l'importanza che il mio paese dà al calcio, ho fatto il mio, no? Tu Argentina al massimo batti la Nigeria ma puoi andare fuori lo stesso. E se passa il turno, io non so gli accostamenti, sono curioso di sapere chi dovrebbe prenderla, prima del gironici dove c'è la Francia? Davvero se passa il turno per seconda, per miracolo, l'Argentina sperando in un biscotto, antibiscotto, Nigeria e Islanda mi va a prendere la Francia? Sorei curioso solo di vedere come va a finire quella partita lì, ma tanto riesce a battere la Nigeria e l'Argentina? Ce la fa? Io domani mi sa che sarò costretto a fare un video dove dirò a un certo punto l'Islanda-Nicheri che è diventata una partita improvvisamente importante, perché se l'Islanda se la porta a casa c'ha la possibilità incredibilmente di arrivare agli ottavi, ma a questo punto incredibilmente mica tanto. Davvero, irriconoscibile, una delusione l'Argentina più brutta vista negli ultimi anni. L'anno scorso questa squadra, udite udite, è arrivata in finale. E sembra a questo punto che se arrivi in finale, dici, se la vinco, bene, l'anno dopo magari esco ai gironi, come è successo a Italia e Spagna, quest'anno non so se succederà alla Germania, vediamo se sabato sera gli svedesi fanno un qualcosa di incredibile, quella non me la voglio perdere. Qui niente, in una giornata di merda dove questa videocamera mi ha andato a fanculo tutto quello che potevo fare, grazie a Argentina era meglio se uscivo. E grazie un'altra volta per non aver nemmeno buttato dall'inizio un brisciolo di Wayne. Non lo dico perché sui momenti, ma lo dico perché il calcio, tu non lo capisci.